Nel maggio 2022 Messina De Naro ha scritto alla sorella «Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò». Altri dettagli sulle indagini, il boss a Campobello di Mazzara forse già dal 2017. I dettagli. Andrea Bonafede, 59 anni, legiometra di Campobello di Mazzara, attualmente detenuto per associazione mafiosa che ha prestato l'identità a Matteo Messina De Naro, sarebbe stato a disposizione del boss almeno negli ultimi quattro anni. Così ritiene il Tribunale del Riesame di Palermo, che ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati difensori di Bonafede. I giudici, come si legge testualmente nelle motivazioni, addebitano ad Andrea Bonafede un fascio di condotte di assistenza a tutto tondo alla latitanza del capo mafia, dalla consegna dei propri documenti di identità, all'avergli procurato un emetico, all'acquisto dei due appartamenti usati come covo e di due automobili, una Fiat 500 e una Giulietta. Bonafede ha messo a disposizione se stesso come alias di Messina De Naro, consentendogli la libera circolazione nel territorio, gli acquisti per la copertura della latitanza, l'accesso alle cure. Nel frattempo, un testimone colloca la presenza di Matteo Messina De Naro a Campobello di Mazzara, prima della pandemia Covid, forse già nel 2017. Per più o meno cinque anni, il latitante ha goduto di protezione e silenzio. Peraltro, nel 2017 Messina De Naro, padrino di Cressi Madele Figlio, avrebbe regalato ai coniugi Emanuele Bonafede e Lorena Lancerri 6.300 euro per comprare al figlio un lussuoso orologio Rolex. Il testimone racconta di essersi imbattuto in Matteo Messina De Naro quando ha abitato in Evia San Giovanni 260, altro immobile che è stato perquisito dopo l'arresto ma trovato vuoto. E ciò anche perché nel giugno 2020 il Le Boss si sarebbe trasferito in Evicolo San Vito IV, ultimo covo fino allo scorso 16 gennaio. Il testimone aggiunge «Quando ho visto quel volto nuovo ho chiesto informazioni ad Andrea Bonafede e lui mi disse che il nuovo ospite si chiamava Francesco ed era fratello della sua compagna. Dopo l'arresto, appena la foto di Messina De Naro è stata pubblicata, ho capito chi fosse davvero l'uomo. Ricordo che se ne andava in giro con una Fiat 500 L». Conclude Infatti la Fiat 500 L sarebbe l'automobile permutata da Bonafede per acquistare l'Alfa Romeo Giulietta usata dalla titante che, secondo altre fonti, avrebbe cavalcato anche una moto, una BMW Enduro. Ancora nel frattempo, dall'indagine è emerso che in un pizzino diretto alla sorella Rosalia, il 10 maggio del 2022, Matteo Messina De Naro ha scritto «Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa». «Ho capito, anche se già lo sapevo, che ho una forza di volontà stupefacente, invidiabile. Non cammino col fisico, cammino con la forza di volontà. Io mi fermerò appena morirò. Non prima». A fronte di quanto scritto, Messina De Naro è adesso sorvegliato giorno e notte all'interno del carcere dell'Aquila per evitare che tenti il suicidio. Dalla titante, in occasione dello scambio di lettere architettato e spiato dai servizi segreti con l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonino Baccarino, Matteo Messina De Naro gli ha scritto «Con la morte ho un rapporto particolare. Da ragazzo la sfidavo con leggerezza, da incosciente. Da uomo maturo la prendo a calci in testa, perché non la temo».